Ed ora la politica con i risultati delle elezioni provinciali in Abruzzo. In tre delle quattro province abruzzesi ieri, 18 dicembre, si è votato per eleggere il Presidente il nuovo Consiglio a 12 componenti, mentre a Teramo, dove il Presidente Diego di Bonaventura resterà in carico un altro anno solo per rinnovare il Consiglio. A votare sono stati soltanto i sindaci e i consiglieri in carica nei 108 comuni della provincia dell'Aquila, nei 104 della provincia di Chieti, nei 46 di Pescara e 47 di Teramo. A Pescara il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, della Lega, ha prevalso con 60.344 voti su Alessandro D'Ascanio, sindaco di Roccamorice del Partito Democratico, che di preferenza ne ha ottenute 31.203. Ad eleggerlo i sindaci e consiglieri in carica dei 46 comuni del Pescarese. All'Aquila è stato riconfermato con 49.600 voti il Presidente uscente e il sindaco di Casteldisangro, Angelo Caruso, candidato del centrodestra, sfidato dal sindaco di Tagliacozzo, civico appoggiato dal centrosinistra, Vincenzio Giovagnorio, che ha ottenuto 42.681 voti. A Chieti lo spoglio è stato effettuato questa mattina e come da previsioni il sindaco di Vasto, Francesco Menna, del Partito Democratico, ha prevalso con uno scarto di circa 10.000 voti sul sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, candidato del centrodestra. In provincia, Teramo, ha votato il 94,3% degli aventi diritto, la più alta percentuale da quando ci sono le elezioni di secondo livello. Alla chiusura del seggio elettorale hanno votato 578 aventi diritto su 613, con una percentuale di affluenza del 94,3%. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, sulle elezioni provinciali di Pescara afferma che continua il buon governo del centrodestra con l'elezione alla carica del presidente del sindaco Ottavio De Martinis. Soddisfazione anche del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, che afferma, auguro un buon lavoro al neoeletto presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, nella certezza che sarà un interlocutore serio per i 46 sindaci del nostro territorio. L'assessore regionale al bilancio, Guido Liris, di Fratelli d'Italia, sulle provinciali dell'Aquila afferma che la conferma di Angelo Caruso, presidente della provincia dell'Aquila, conferma la solidità della coalizione di centrodestra e l'inaffidabilità di un'alleanza tra il centrosinistra e le realtà cosiddette civiche. È vero che si tratta di elezioni di secondo livello, ma per questo di significato, se vogliamo, ancora più importante dal punto di vista intrinsecamente politico. Congratulazioni al presidente Caruso e anche dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che parla di continuità amministrativa, quale presupposto fondamentale per la tanto agognata ripresa economica e sociale dell'intero territorio dopo il duro e lungo periodo pandemico. Sulla vittoria di Menna a Chieti, Silvio Paolucci, capogruppo PD in Consiglio regionale, ha dichiarato. Un'affermazione grande è prevista quella di Francesco Menna, la presidenza della provincia di Chieti, che è frutto di una partecipazione consistente dei comuni e di un importante lavoro di apertura e allargamento delle alleanze alle compagini civiche che come PD abbiamo condotto in modo serrato negli ultimi mesi. Sono certo che il sindaco di Vasto saprà portare avanti egregiamente il percorso avviato dalla lunga consigliatura di Mario Pupillo. Ha concluso Paolucci.